La chiusura delle scuole è un atto per certi aspetti doloroso, ma necessario con i numeri attuali della pandemia nella nostra regione. Lo sostiene il segretario regionale dello SNALS Carlo Frascari, che sottolinea come la situazione in Abruzzo sia più che mai delicata. Lo stesso sindacato da mesi chiede ormai che insegnanti e personale scolastico vengano vaccinati. Ad essere chiari, sia il personale ma soprattutto i docenti non sono affatto contenti dalle chiusure, perché la didattica a distanza, a parte il discorso dell'inefficienza didattica, ma c'è anche tutto un disagio dovuto all'utilizzazione dei mezzi, al problema degli orari. Quindi non è una questione, è una questione di necessità e io credo purtroppo, come stava dicendo lei, che questa cosa non si fermerà il 28 febbraio. Forse dovremmo aspettare un altro paio di settimane dagli ultimi dati e credo che l'Abruzzo sia in questo momento da considerare una regione pilota, ahimè. perché da quello che sappiamo le cose si stanno espandendo anche nelle altre regioni, ma non è un problema, qui dobbiamo finire di pensare che chi chiude e chi apre è più bravo o meno bravo. Qui è un problema di diffusione di una pandemia che ci ha colpiti duramente e ci sta colpendo ancora. E l'unica vera soluzione sono i vaccini. Perciò stiamo insistendo come sindacato da tempo, in realtà da tempi non sospetti, cioè da quattro mesi, che la categoria più a rischio in questo momento sono gli insegnanti e il personale della scuola ed anche i bambini, i ragazzi che frequentano. Solo così potremmo garantire che fra un mese le scuole, un mese e mezzo diciamo, ecco, fine marzo, le scuole possono cominciare a riprendere la loro funzione normale, perché se non ci si vaccina non c'è altro molto da fare, perché le misure di contrasto dal punto di vista igienico-sanitario, le scuole hanno messo in atto dal mese di settembre, anche prima, insomma. E più di così non si può fare, ma il problema è la movimentazione all'interno delle scuole, fuori dalle scuole, perché è una cosa che non si può, non è che le persone possono essere incatenate ai banchi o agli uffici, insomma, questo è il problema.